In questo numero, la Lazio ai tempi di fascetti, racconto di un'impresa dimenticata. Leggende viventi, Uwe Zeller, mit di Germania, svela Ero dell'Inter, ma poi di Sinò. Storia del Catania che studiava da grande, il sogno Serie A targato estate 83. Omaggio a Sinisa Mijajlovic, inarrivabile cecchino del gol. I cartoon del pallone, la Juve in subbuglio per il ritorno di Ibra. Questo e molto altro alla Tribù del Calcio, buon divertimento! El Catania Il giallo è il giallo, il giallo è il giallo. Il giallo è il giallo, il giallo è il giallo. Ecco le richieste dell'accusa formulate questa mattina, poco fa, dal capo dell'ufficio inchiesto di Biase. SS Lazio calcio, retrocessione all'ultimo posto in classifica nel campionato 85-86. Ci troviamo in ritiro a Gubbio e il calcio scommesso aveva decretato questa penalizzazione pesantissima per una squadra come la Lazio. Io tutto sommato non cambiava niente perché io comunque ero romano. Giocare con la maglia della mia città per me era sempre stato un sogno anche se si giocava in Serie C. Mi rimase impressa lo sguardo di Pinn perché lui veniva a Pinn e veniva da un campionato vinto con la Juventus. Aveva fatto mi sembra 15 presenze quindi aveva giocato con Platini. Insomma da campione d'Italia ritrovarsi in Serie C era stata pesante. Insomma passiamo due giorni veramente duri ecco. Il 5 agosto la commissione disciplinare della Federazione Italiana Gioco Calcio sanciva la retrocessione in Serie C della Lazio. Ero sull'autostrada, stavo andando in Calabria. Arriva la notizia attraverso la radio e mi sento così male. L'idea della Lazio in Serie C mi fa talmente male che avverto la necessità di fermarmi a un grill. E contemporaneamente vedevo tutta una serie di macchine che stavano andando in Calabria in vacanza che si fermavano e scendevano dei ragazzi insieme alle ragazze con l'aria disperata. Non è possibile ma com'è la Serie C? Sono venuto a protestare perché quando ieri ho sentito la notizia la si è scoppiata a piangere. Non ce la facevo proprio. Chi si prenderà la responsabilità verso i tifosi laziani dovesse succedere qualche cosa. Monta la rabbia dei tifosi, ma questo è solo l'inizio. Infatti alcuni giorni dopo, esattamente il 28 di agosto 1986, la CAF emana il verdetto finale. La Lazio rimane in B ma con una penalizzazione di 9 punti e in un campionato con due punti a vittoria equivale alla quasi retrocessione. Una botta tremenda che arriva dritta alla squadra in ritiro a Gubbio, ma è in quel momento drammatico che si forma un grande gruppo. A quel punto ci fu una riunione così di fascetti in mezzo al campo, ricordo sulla pista del campo di Gubbio dove facevamo il ritiro. Radunai tutti in mezzo al campo. Signori, chi vuole andare può andare. Se rimaniamo, non se ne parla più di questa cosa, basta. Io personalmente avevo un debito in questa società perché purtroppo l'anno prima io sono stato pagato tantissimo. Forse in quel momento ero stato il giocatore più pagato della Lazio. L'anno prima ho avuto un sacco di problemi fisici. Praticamente per me era anche un debito nei confronti del tifoso perché non ho riuscito a far vedere quello che secondo me erano le mie possibilità. Io non avrei mai detto di no. Infatti non ci ho neanche pensato minimamente di poter andare via. Io riguardai la PIN, insomma perché, ripeto, venendo dalla Juve ho detto ecco adesso se ne va, invece Gabriele e tutti quanti. Credo che proprio la decisione di Gabriele abbia fortificato un po' tutti. Il fatto che lui venendo dalla Juve fosse rimasto, insomma rimaneva lui, rimanevano un po' tutti. Ecco da lì credo che si sia cementato veramente quel gruppo. Il campionato parte il 14 settembre del 1986 e l'avvio non promette nulla di buono. La Lazio pareggia la prima con il Parma e perde la seconda in casa con il Messina con un colpo di gobbo. Ma da quel momento i bianco celesti partono e collezionano 14 risultati utili consecutivi. La Lazio vola e guarda la parte alta della classifica. A un certo punto ci ho creduto perché la Lazio nel corso del campionato si avvicinò molto alla zona promozione. Ci fu una partita praticamente che era un bivio a Cesena mi sembra. Se noi avessimo vinto quella partita a Cesena dove pareggiammo uno a uno, se avessimo vinto quella partita ci agganciavamo mi sembra alle squadre che potevano ambire ad andare in Serie A. Eravamo più vicini alla Serie A che agli spareggi. Forse avevamo speso troppo, più che dal punto fisico e dal punto mentale. Ogni partita era una guerra. Dopo la partita col Bari, che vincemmo 2-1, 3-1, lì praticamente andavamo a zero. Da lì capimmo che qualcosa di importante poteva accadere, anche perché giocavamo meglio delle altre, eravamo più forti come squadra. Lo sapevamo, lo sapevamo tutti. Nel girone di ritorno la Lazio va in difficoltà e torna nella zona pericolante della classifica. Siamo trovati un momento dove abbiamo sbagliato qualche risultato e fisicamente siamo un po' crollati. Lì un po' di paura c'è stato, perché vedevamo che potevamo andare fuori da tutto. Infatti ci sono state anche qualche discussione, qualche problema, però fino alla fine ci abbiamo sempre chieduto. Il calo fisiologico c'è stato, come succede in tutte le squadre, e perdemmo un po' quello che era la nostra consapevolezza di poter fare il doppio salto. La sicurezza la perdiamo un po' quando iniziamo a perdere. E lì ho cominciato a temere molto, perché era una squadra proprio da personalità che difficilmente avevano l'idea di dover lottare per non retrocedere. Era una formazione fatta per rimontare, quindi di persone più votate all'idea della promozione che non all'incubo della retrocessione. Quindi l'ho temuto, l'ho temuto molto, l'ho temuto fino all'ultima giornata. Nelle ultime tre partite la formazione bianco-celeste ottiene un solo punto e la sconfitta a Pisa, per 3-0, fa esplodere Eugenio Fascetti. A Pisa, a fine primo tempo, perdiamo 3-0. Io sono entrato negli esploritori, è entrato Fascetti, si vede che la prima persona che ho incontrato ero io. E ha iniziato a dirmi di colori, ho detto, Se non c'era Terranio, forse accadeva qualcosa di imprevisto, potevamo andare alle mani, però dopo ci siamo calmati. La cosa bella è che poi durante la settimana Fascetti è venuto a scusarsi, ci siamo riappacificati, anche perché con me è abbastanza facile. L'Azio! L'Azio! Arriva il 21 giugno del 1987, e contro il Vicenza, nell'ultima di campionato, la Lazio è obbligata a vincere per rimanere in Serie B. L'atmosfera è suggestiva. Lo ricordo molto bene perché io ero dentro il campo, ero con la telecamera e dovevamo documentare questa giornata da dentro il campo, tra virgolette abusivi. e prima della partita l'emozione arrivava dalla gente. Io girai il campo, ancora ricordo quasi l'abbraccio, il contatto, mi sentivo una protesi della gente che era in tribuna, in Tevere, in curva sud, in curva nord. Dovevamo assolutamente vincere e il Vicenza perdendola retrocedeva, quindi era veramente una sfida drammatica. Eravamo molto concentrati e soprattutto era uno scenario bellissimo perché mi sembra che ci fossero più 70.000 tifosi. Erano belle anche i colori del Vicenza perché notoriamente le maglie del Vicenza sono molto belle, insomma era tutta una coreografia bellissima, però nello stesso tempo drammatica. però entrare in campo e vedere uno stadio del genere ti dava un po' i brividi. È stata una partita molto, molto pesante da affrontare. 90 minuti, ma forse uno ne sentiva due centri. Stanno entrando in campo i giocatori, ecco l'ovazione del pubblico e ci sono migliaia di bandiere che escono fuori dagli spalti e tutte le scerpe all'inglese, dobbiamo dire, che sono state tirate fuori da tutti i tifosi. È uno spettacolo magnifico, fumogini, biancazzurri in curva nord. E' un grande parata ancora una volta del portiere dal bianco. Ho avuto un portiere dall'altra parte che ha parato anche, si può dire, i famosi moscerini, si dice. È stato bravissimo. Sembrava un muro, ci fosse un muro, poi è sparito questo portiere, del bianco mi sembra. Fassetti sudava sicuramente, sudava comunque, però lui non faceva uscire le proprie emozioni. Nella partita della vita, da Lazio parte forte, ma il gol non arriva mai. Ma 8 minuti dalla fine è l'apoteosi. è 36esimo, 9 minuti di recupero, Fodalini, al limite Fodalini, trovi Grandzio, in aria, a poli, si gira, tiro, si gira, 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 è stato l'Olimpico, si gira, si gira, galeta, 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 è un gol che va scuogliere letteralmente dal San Olimpico, si gira, Ha segnato di forza, ha segnato di forza, Travognini lo chiudevano, torna in campo così in fronte emotivo a Fiorini, ancora a portocampo, è un gol che riapre improvvisamente ed in questo momento inaspettatamente l'esperanza per la squadra biancoceleste. Che a questo punto, se non sbaglio, è a pari merito con Taranto e Campopasso in uno spareggio a tre con Impaglio, due posti per la pista, uno per la pista. Pensi a Giuliano Fiorini, pensi a quell'anno. Il minario di vitore è fantastico perché è furbo, intelligente, delicamente bravo. Da bambino mi piaceva Chinaglia, quindi lo rivedevo come Chinaglia, un leader. Era l'idea umana del calciatore, proprio profondamente umana. Un ragazzo buono, con tantissimo carattere, soprattutto, è un trascinatore, ecco. Era il boss, cioè lui e Mimbo Caso erano i due leader, si chiamano leader ma sono gli stessi compagni che li avevano creati. Era anche una persona molto positiva dentro lo spogliatoio, una persona fantastica, nonostante la vita che ha fatto da non calciatore, secondo me. Almeno, vabbè, forse il calciatore di quei tempi. Fiorini era un'altra categoria. Dopo la partita con il Vicenza, la Lazio deve disputare gli spareggi a Napoli con Campobasso e Taranto per rimanere in Serie B. Il popolo bianco celeste, il 27 giugno del 1987, per la sfida al Taranto, invade il San Paolo. La stragrande maggioranza dei tifosi e anche molti giornalisti, me compreso, arrivarono dal trentesimo al quarantacinquesimo del primo tempo. Perché tutti siamo partiti prima per vedere la partita. Fatto sta che io entro nel casello e non mi è mai capitato, e lo ricorderanno quelli che sono andati, che la fila era da Roma a Napoli. Nonostante l'appoggio dei propri tifosi, la Lazio contro il Taranto incassa una sconfitta pesante. De Vitis gela i sostenitori laziali con una rete molto contestata. Perdemmo con il Taranto 1-0, un gol nettamente in fuorigioco di De Vitis. Di 2-3 metri era in fuorigioco, però ci toccò perdere. La fortuna fu che la partita dopo a fa di loro ci fu il pareggio, se no veramente sarebbe stata drammatica l'ultima partita. Ho ottenuto a un certo punto una retrocessione senza ombra di dubbio. Dopo il pareggio tra Campobasso e Taranto il 5 luglio del 1987 contro i Molisani, la Lazio è obbligata a vincere per rimanere in Serie B. La partita è di vitale importanza, in palio non c'è solo la salvezza, ma anche il futuro della società bianco celeste. Ci sono stati giocatori, mi è compreso che sono dimagriti 3-4 kg in una settimana proprio per lo stress, quindi è stata veramente dura sotto quel punto di vista. Troppo più forte di loro, solo che non riuscivano a fare il gol, loro credo che abbiano fatto mezzo tiro in porta, solo che hanno avuto un'occasione che ci avrebbe spaccato in due. Boito va al centro, possibilità di cross, verso Boito, solo in aria, colpo di testa centrale. Con Boito davanti al portiere, però si vede che fu un bravo Terraneo, lo ipnotizzò. E lì fumo fortunati, però saremmo stati molto sfortunati se avesse fatto il gol. Non arrivava mai, neanche questa volta, il gol decisivo. Lì ho avuto più paura. ...va a allargare tutto il gioco sulla sinistra, azione molto prolungata, di Piscetta per Poli, è il gol, è il gol di Poli, è il gol di testa di Fabio Poli! E ora ci passa in vantaggio, all'ottavo minuto, il gol di testa è di Fabio Poli! Il gol di testa di Fabio Poli! Ed potete immaginare l'entusiasmo qui in tribuna, ma anche in curva, da parte dei 30.000 tifosi laziali, 30.000 tifosi laziali che sono giunti qui a Napoli. Praticamente facemmo, non so, 10-15 passaggi lì al limite dell'aria. Vedevo che mi pressavano, ho messo con l'esterno sinistro, ho messo la palla dentro, che c'era Fabio. Lui ha sempre detto che la mise era una cosa studiata, però lì è una questione di... doveva andare così, fortuna, lui l'ha mise dentro di prima. Colpi di testa, stacco molto alto e colpi di testa. Non so cosa mi venne sotto i piedi, ma non so quanto andai su, perché di quanto rividi le immagini, andai a prendere la testa e a prendere il pallone di testa. Cross di Piscetta, colpo di testa di Poli e gol! Il primo pensiero è stato quello di correre verso la panchina o verso i tifosi che erano dall'altra parte. Infatti, secondo me, è stato lo scatto più pesante, perché ho fatto una fatica ad andare dall'altra parte a esultare. Parlavamo così, scherzavamo di un po' di... così, sdrammatizzare con tutto lo stress che avevamo. Però dice, se faccio gol non vado ad abbracciare Fascetti, infatti non lo abbraccio a Fascetti, giro intorno alla panchina, se vedi il filmato... La squadra mi aveva detto che se io avessi fatto gol non dovevo andare a esultare con Fascetti, che così feci, però fu un errore, perché nel tempo capì che non era una colpa sua, ma era una cosa istintiva che era venuta. La squadra era caratterialmente... aveva qualcosa in più rispetto agli altri. È stata una famiglia, una squadra fantastica, una cosa che difficilmente si può trovare nel calcio di oggi. Quella squadra è stata miticamente umana. Terraneo, Marino, Gregucci, Podavini, Magno, Cavallo, Acerbis, Pin, Caso, Poli, Mandelli, Fiorini. A disposizione, Gielpo, Filisetti, Piscedda, Calisti, Camolese, Schillaci. Allenatore, Eugenio Fascetti. Senza di loro non ci sarebbe stata la Lazio del domani. Loro sono gli eroi dei meno nove. Loro sono gli eroi dei meno.